Prendevo proprio fare di nuovo questo video perché ho scoperto cose di questo suntocore che pensavo fosse un difetto non l'ho mai detto ma ho dovuto dire pensare che fosse un difetto ovvero l'altitudine rilevamento dell'altitudine l'altimetro così che poi ho detto buon dai se non va l'altimetro userò solo il barometro e invece no c'è non un trucco ma c'è una modalità di usare l'altimetro si mette in modalità automatica e lui segna e lui comincia a segnare dipende da come ti sposti in pratica se si sta fermi in un posto legge le letture barometriche e ti segna pressione a livello mare dell'altimetro del barometro e così via e se invece prendi la macchina e vai a farti un viaggio in giù o in su per strada dopo neanche due tre chilometri sa che sei in viaggio e ti segna l'altitudine il livello sì insomma per esempio qui siamo a 830 metri lui in una città mi dava 340 metri era perfetto e giusto perché ho guardato sull'applicazione scaricata insomma sul cellulare tutto è diventato all'improvviso perfetto quindi questo assunto core è fantastico perfetto non ha difetti o almeno finora avec